ci troviamo davanti il giardino dei miei parenti un giardino privato di simbario che affianca la farmacia il comune poteva anche non pulirlo come ha fatto fino adesso poi un bel giorno a proda nicolino detto venga a simbario guardate non solo pulisce il marciapiede ma pulisce anche il giardino dei miei parenti che che sporcava sul marciapiede non si poteva passare adesso dalla farmacia è possibile percorrere tutto il marciapiede guardate la c'è anche la via francesco ceniti che porta la fontana vecchia è stata pulita da nicolino come mi ha detto oggi guardate quindi va premiato questo ragazzo ne ho parlato al comune al vigile nicolino va premiato un saluto a tutti a gg da questa strada pulitissima dal paese pulito di simbario che alla fine nicolino credo sia l'unico che veramente fa il suo lavoro davvero